E vuol continuare a dire, la musica è la società ideale, l'orchestra è la società ideale e nell'essere secondi, vi presento i secondi violini, vedi? Anche Bosso, come cantatore del sistema, che ha invitato nella trasmissione qua televisiva, la società, l'orchestra, quando si comprono le realtà sociali di emergenza, con le realtà contro i cittadini, contro i diritti dei cittadini, con le lobby, con il potere, non solo nella società europea, ma che chiaramente viene nascosto anche da queste narrazioni, la società, l'orchestra, la musica del sistema, con nessun brano che denuncia la realtà dei fatti della società contro i cittadini, contro le lobby del potere, che gestiscono anche questa comunicazione, la musica del sistema, votiamo no al regime del coronavirus, un brano che esce da questa realtà della musica del sistema, che certo anche con la musica classica viene confermata, la musica del sistema, votiamo no al regime del coronavirus, votiamo no alla musica del sistema e alla musica del regime, votiamo no.